Marco Marcolin, sul decreto delle missioni qual è la posizione della Liga Nord? Noi siamo contrari a questo sistema di lavoro, è chiaro che una proroga si arriva sempre in Parlamento con decreti di urgenza, cercando di addossare la colpa ai governi passati e quindi cercando di creare le situazioni perché questa proroga venga sotto gli auspici di tutti quanti. La nostra posizione è molto forte, è contraria a questo sistema di lavoro, siamo favorevoli invece a una discussione generale sulla legge quadro che intraprenda un percorso dove le missioni vengono finanziate per un anno e non per dieci mesi eventualmente. Poi come è noto noi siamo per portare a casa i nostri soldati dal Libano, siamo per una riduzione forte in Afghanistan e anche per l'eliminazione perché ormai questi scenari sono, come ho detto anche ieri nella commemorazione del decimo anniversario di Nasseria, sono ormai scenari che non so quanto utilità possano dare i nostri soldati in quei luoghi. forse sono molto più a rischio che non l'utilità che essi danno, per cui noi siamo per l'eliminazione di alcune missioni, faccio un esempio per tutte, c'è una missione a Cipro, per dire piuttosto che in Georgia, di quattro persone, tre persone, dove il governo deve dirci cosa servono questi militari, due, tre, quattro unità su questi scenari per tenere la pace quando tre persone di fronte anche su uno stato seppur piccolo come Cipro, insomma mi viene un po' da sorridere.